Si chiama HeartMate 3 ed è il dispositivo grazie al quale Veronica vive, un impianto che per la prima volta al mondo è stato utilizzato su un paziente pediatrico. È un cuore artificiale, magnetico, che ha permesso alla sedicenne di Ferentino di sopravvivere in attesa di un trapianto vero e proprio avvenuto qualche giorno dopo. L'operazione è stata eseguita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è stato utile per fermare la bomba d'orologeria che la ragazza aveva nel petto, una miocardiopatia dilatativa severa sarebbe andata incontro alla morte da un momento all'altro. L'equip del dottor Amodeo ha scelto di impiantare questo dispositivo che consente di eliminare l'attrito tra le parti meccaniche ed il sangue ma anche tra le parti meccaniche stesse, in pratica limitare al minimo tutte le eventuali complicazioni, trombosi, emolisi o malfunzionamenti meccanici. Al Bambino Gesù hanno deciso di osare, hanno impiantato quel meccanismo che mai era stato utilizzato su un minore e che negli Stati Uniti è ancora in fase di sperimentazione. In Europa invece a tutte le carte in regola il dottor Amodeo ha scelto che tra salvare una vita ed esitare la prima scelta era l'unica possibile. Dopo quattro giorni il cuore vero, quello carne e muscolo è stato trovato e per Veronica è iniziata una nuova vita. La ragazza ora sta bene, può tornare a vivere grazie alla sua forza di volontà unita al genio e a quel pizzico di follia di un medico e della sua equip, un miracolo che può ancora renderci fieri di essere italiani.